Musica 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 Nuovamente nella area YouTube del convento di Lonato Siamo con Sandrino Nonché il grande regista di questo Bellissimo studio che ringrazio di avermi ospitato Ciao Sandrino, tutto bene? Ciao Andrea, grazie della presentazione Grazie mille, di solito sono io a presentare Stavolta sei te a farmi la presentazione Che bello, sono qui seduto Sulla sdraio, mi sono messo l'infradito Sono rilassatissimo Fai tutto te Andrea Stavolta ho portato un ospite In parte a me, come vedi I nostri amici a casa Vi presento Marco Simoni Grande allenatore di calcio Della squadra Feralpi Sarò Settore giovanile Parliamo quindi di settore giovanile Valle a dire Dalla primavera Ai primi calci Lui si occupa Della fascia Dei ragazzini Di dieci anni Marco Simoni Marco Simoni Che abita a Moniga Manerba Scusate Manerba Professione Professione Il fancazzista Il fancazzista No, lavoro a Montichiari Lavoro a Montichiari In un centro di fiori In un centro di fiori Quindi si occupa di fiori Per tutte Per tutte Diciamo queste belle donne Del Del convento Ah, devono chiudere Dobbiamo chiudere Ma fa niente Siamo in chiusura No, ma tranquilla Abbiamo appena aperto Siamo già in chiusura Anche tuo amico Ti mette Devi stringere Andrea Ti mette in pressione Però dai Va bene Va bene Una grande presentazione Lui quando ti presenta Le ragazze Lui ti presenta Ciao Piacere Questo il mio amico Lui ti fa la presentazione così Ti fa fare subito Bella figura Quante te ne sei cuccate Grazie ad Andrea Zero 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 Ovvio Zero Qui dici che la presentazione Non funziona così Perché non fa mai la presentazione così Non te la fa mai Vi ricordiamo Vi ricordiamo Convento Ristorante Disco Bar A Lonato del Garda Convento di Lonato I vostri Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica notte Vi aspettiamo Qui nell'area Youtube Del convento di Lonato Brescia Con il nostro Sandino Bravissimo Gli è partito il jingle Così in automatico Lui anche quando si alza la mattina Gli parte il jingle Della sera prima È fantastico La mattina è Scusa Per le vostre ricorrenze speciali Per il vostro matrimonio O per le vostre celebrazioni importanti Scegliete Convento di Lonato A Lonato del Garda Brescia Il luogo ideale Per i vostri eventi e servizi Convento di Lonato A Lonato del Garda Brescia Perfetto Grazie Andrea Grazie della pubblicità Grazie di tutto Dobbiamo cantare Perché il tempo E siamo in chiusura Siamo in chiusura Sì Però Arriva una grande voce Di un grande amico Che ha avuto modo Di collaborare Si chiama Luciano Ligabue Con questa è Certe notti Sono un vizio Che tu non puoi smettere Smettere mai Grazie Se la regia mi alza un attimo la base Sarei più contento Grazie Certe notti Fa un po' di cagnera E sentano che Non cambierai Più Quelle notti Fra cosci e zanzare Nebbia e locali A cui dai del tu Certe notti C'hai qualche ferita Che qualche tomica Disinfetterà Certe notti Con i bar che sono chiusi Al primo autogrill C'è chi festeggerà Vai tutti insieme Voi da casa E non si può restare soli Certe notti qui E chi si accontenta Gode Così così Certe notti E sei sveglio O non sarai sveglio mai Ci vediamo Da Mario Prima o poi Certe notti qui Qui al convento di Lonato Vi aspettiamo Dal mercoledì L'amore Fin quando fa male Fin quando Ce n'è Vai tutti insieme E non si può restare soli Certe notti qui E chi si raccontenta Alla chitarra Il nostro amico Roberto Poggi Pollini Si Direttamente dal canale Aria YouTube Dal convento di Lonato Il Garda Il luogo ideale Per i vostri matrimoni Ricorrenze speciali Certe notti Certe notti Sei solo più allegro Più gordo Più ingenue Coglione Che vuoi Quelle notti So proprio Quel vizio Che non voglio Smettere Smettere Mai Non si può restare soli Certe notti qui E chi si accontenta A godere Così Così Certe notti Sei meglio O non sarai Sveglio Mai Ci vediamo Da Mario Prima o poi Certe notti qui Certe notti qui Certe notti qui Certe notti qui Ed era certe notti Quindi siamo in chiusura Sandrino Siamo in chiusura Andrea Quindi non mi resta che ringraziare Tutto il convento di Lonato L'area YouTube Convention Qui Del convento di Lonato Del Garda Brescia Ricordiamo dal mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Tutte le sere A disposizione Il convento di Lonato Per le vostre ricorrenze Festa Addio al nubilato E che più ne ha Più ne metta Ringraziamo Sandrino In regia Marco Il nostro ospite Che è già scappato Grazie a tutti E un arrivederci Qui al convento di Lonato Ciao a tutti Da Andrea Ciao Grazie Grazie a te Ciao Andrea Ciao 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 Grazie.